Ok ragazzi, la missione di oggi è semplice, siamo su un parkour ovviamente di Squid Game e beh, sì, sì, insomma, allora, io ho già completato il 98%, casualmente non ho assolutamente shoppato nulla, ve lo giuro, ve lo posso giurare Come shoppare Robux? Perché volevo essere l'unico a vincere lo Squid Game, come potete vedere non ho assolutamente nulla di strano per schippare gli stage e stiamo giocando tutto legittimamente Ma oggi, non so ragazzi, non vi è mai venuta la voglia di quando fate un parkour, dover essere gli unici a finire quel parkour Beh, oggi sì, mi sa che probabilmente i nabbi non finiranno questo parkour Fingeremo di aiutarli e cercheremo di, insomma, rendergli la vita un po' difficile Tipo, utilizzando un po' di poteri strani Sì, come vedete sono alla fine perché sono nabbe, scusa volevo dire Sono alla fine perché sono troppo bravo e ho finito il gioco in maniera le... Va di tutto bene? In maniera legittima, stavo dicendo, ho proprio finito il gioco in maniera legittima Come potete vedere il 98% perché non voglio finirlo Ma voglio andare a trovare i nostri cari amichetti Allora, lì ne ho già visto uno, buongiorno No, no, mannaggia te, guarda gli stage Guardate, allora, così, buongiorno, buongiorno, eh Ce la posso fare, signori, ce la posso fare Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, la prima parte ce l'abbiamo fatta Guardate che cosa ho qui, a parte una spada laser ho anche un change body Praticamente se io clicco sul tipo, se riesco a becca... Se riuscissi a... Se riuscissi a... Dicevo, se riuscissi a prenderli, praticamente posso scambiare il mio corpo con il loro Non so in che raggio posso fare questa cosa Io speravo tipo un po' più lontano, ma vabbè, a quanto pare Ci tocca andare vicino al tipo Ehi, ciao amico, come stai? Tutto bene? Porca pupazza, porca pupazza, non è possibile, eh Io però che muoio per ogni cosa di questo gioco Allora, facciamo così Facciamo così e vediamo se qua funziona Allora, ciao amico, come stai? Tutto bene? Tutto... fatti... No, vabbè, sei pure morto, cioè nel senso Allora, devo scambiare il corpo con te, vieni qua Devo scambiare il corpo, vabbè ho capito, faccio così Ci penso, vengo io, non ti preoccupare Non me lo prende, mannaggia, ma non me lo prende Mannaggia lui Vabbè, sentite, facciamo così Allora, stavo dicendo, dobbiamo andare a cercare il tipo Allora, in teoria questa potrebbe essere già la distanza giusta, vero? Ok, io sono diventato lui, lui è diventato me Questa cosa non doveva proprio succedere così Però, amico, visto che ti sei impegnato tanto per arrivare fin qua ti do una mano Ok, bravo Allora Quanto mi sento cattivo, ragazzi Guarda, è di lì Poi vai a destra Bravo, così Let's go, sium Ma sei morto? Oh, che dispiacere Ma che cavolo, ma mi dispiace, brodi Un attimo, scusate, do una mano Io vorrei... ok, perfetto Lui è andato avanti e io sono indietro No, scusa Adesso la cosa è tu vieni, torni da me e tu... ok, perfetto, va bene Allora, io devo provare il modo però che lui si faccia del ma... cioè, si, si, si uccide Tipo, dai, ti sto aiutando, amico Amico, ti sto... dai, na, bozzi Ehm... Non stai tornando indietro, no Non devi tornare indietro È morto Si è... si è cancellato da solo Boh, vabbè, non ho parole Guarda, ti faccio andare Amico, allora, ti sto pure aiutando E tu dovresti un attimo capire che ti sto aiutando No? Niente, non lo capisce Vabbè, sentite, facciamo una cosa Andiamo da qualcun altro Che vedo lì altre personcine Pronte per morire Cioè, beh, beh Per arrivare alla fine del lobby E vincere lo Squid Game Sì, però io devo smetterla di morire, eh Perché questa cosa è abbastanza cringe Ciao, amico, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Ma anche tu c'hai la skin del... Ehi, sì Ehi, sì Volevi Volevi Vuoi passare, per caso? No, dimmi No, se vuoi passare, dimmi Cioè, spieghi Allora, va bene Va bene, ci siamo Vai, amico Vai, tranquillo Non ti preoccup... Però, cioè, non ti devi buttare giù Non è che ti faccio del male O chissà che cosa Guarda, ti do una mano Guarda, seguimi Uno, due E... ok Tu diventi me Io divento te, ok? Sì, devo dire che gli altri con la mia skin Sono proprio belli Ok Bravo, dai, così Vai avanti Io ti sto... ti sto aiutando, bro Dai, frate Ok, vai, vai Vai avanti Ah, adesso cos'è? Vuoi che ti aiuto tutto il tempo? Ma guarda te Allora, facciamo così e... Ti prego dimmi che l'ho preso No, mannaggia Non l'ho preso Mannaggia lui Però, tipo, ho ancora la mia skin Guardatelo là Che carino Che tenero Allora, no Si è ucciso perché non voleva essere me Vabbè, però, cioè Mi sembra un po' cattivo far così, eh Con i tuoi amici, soprattutto Allora, andiamo sotto Che qui ne ho visto un altro Ma salve Come fare il parkour di Squid Game Con me che vi inseguo Con una spoda Voglio fare un gioco con te Voglio fare uno Squid Game Con te Vieni qua Allora, così Così Mi viene difficile fare tipo I parkour di corsa Per inseguire la gente Per mangiargli l'anima No, non è vero Non gli voglio mangiare l'anima Voglio semplicemente Porca pupazza Voglio semplicemente parlarti E capire dov'è Diavolo sei finito Sento l'odore del nabbo Sento l'odore del nabbo Eccolo lì Eccolo qua Sei nabbo Vieni qua In realtà il nabbo sarei io Perché ho shoppato per finire lo Squid Game Però, vabbè Vieni qua Ti do una mano Guarda Ti do una mano Così Così ti do una mano Oh cacchio Sono diventato una donna Ehm No Ho finito gli utilizzi del coso Vabbè Voglio dire che Devo riprendermi il mio corpo Devo riprendermi Quindi tu vieni qua Una erida Ciao Ciao Kalin Bravo Cioè in realtà sono ritornati gli utilizzi Comunque devo andare a riprendermi il mio corpo Dove cavolo è finita Sta ancora usando il mio account Il mio corpo È mio Sarà mio il mio corpo Sì Oddio però sono bellino Piccolino Comunque Dicevo Ok perfetto Ora sei ancora te stessa E per punizione Visto che mi hai rubato il corpo Ti spaddaccino un attimo Anche se mi sto troppo divertendo A far stare Ma probabilmente Sono una persona Orribile Dove stai andando? Non è da quella parte Ah Hai detto che vuoi tornare indietro? Hai detto che vuoi far tutta la fatica Per tornare indietro? È morta? No è ancora lì Boh Non lo so Ha semplicemente cambiato qua Devo cercare di ucciderla In qualche modo Mannaggia Allora Ce la posso fare Io credo in lei No posso dargli il tappeto in faccia? No Però posso fare questo Ok Perfetto Brava di qua È di qua Vai vai Sì però Non c'è Fatti inseguire Dove sei? C'hai un sosia Che ti segue? Sono io Il pupazzo cattivo No ragazzi Comunque Questa cosa sta Degenerando Sì però c'è nel senso Fatti almeno colpire Parliamone Parliamone un attimo Io te ne dobbiamo Forse è meglio Che metto via la spada Ma mia Ma mia Ma raga Ma che cavolo Sì però Allora Buddy Stai esagerando Buddy Stai esagerando Sei una persona cattiva E va bene che non vuoi far finire gli hobby Alle persone Ma Ehi Lì c'è un altro da trollare Quanti vorrebbero essere Buddy In questo momento ragazzi Non lo so Scrivetevi dei commenti Tipo Io vi ci vedo tipo Con la mia skin Andare in giro a fare i troll E se arriviamo a Totemila Like Vero tantissimi Io ragazzi Vi creerò un server Dove alla fine Avrete l'admin Però Sarà un po' particolare Per avere l'admin Di Roblox Vedrete Vedrete Vi creerò questo Bellissimo server Questa bellissima mappa Ma sarà un casino unico Allora Dicevamo Siamo ancora qui Uh qualcuno sta qua Per arrivare Agli stage Importanti Stai facendo tanta fatica Caro amico mio Come stai? Tutto bene? Eh ma che bravo Che sei Perché mi guardi? Sai già cosa voglio fare? Sai già che probabilmente Farò questo? E tu tornerei indietro? E poi sai già che farò anche questo? E tu non sarai ancora lì indietro? E poi sai che in questo momento Io farò anche questo Ti verrò a cercare Con una spada laser No non ti butta No ma non ti Parliamo Cioè nel senso Allora va bene che ti sto sulle scappe Però parliamone Dai facciamo così Allora così Così E facciamo un bel filetto Di sushi Di tipo Che gioca a Roblox E ora dobbiamo andare sotto Però per andare sotto Dobbiamo fare tipo così Così E co Allora io questo parkour Non lo sopporto più Guardatemi in faccia Allora io e te Dobbiamo parlare Ok? Io e te Dobbiamo parlare In questo momento Facciamo così Facciamo così E ti Ti salvo Guarda ti faccio Faccio arrivare a fine livello Così mi guadagno la tu Non mi sono guadagnato una mazza di niente Vabbè ragazzi Abbiamo capito che comunque Sono stato l'unico in grado A finire questo parkour Anche perché in realtà Io non Non vorrei dire Ma Se io faccio così Nessuno può più finire la mappa Sì Decisamente Quindi penso di essere una persona cattiva Ma un pochino Penso che lo rifarei Beh probabilmente sì Lo rifarei decisamente Guardate quanto sono bello Quanto sono forte Per bloccare la mappa a tutti Sono l'unico vincitore Supremo Di Squid Game Sorrabli Ma non mi faccio male Se cado Ma che cazzo Vabbè Sono l'unico vincitore Supremo Di Squid Game Su Roblox E sono veramente Euforico Ragazzi Preparatevi per le prossime mappe Perché i vostri hobby Non saranno più gli stessi Ci sarà Buddy ora Buddy Che Che vi batterà Che ci sarà Si Che 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 Che